e viviamo all'interno di un settore, all'interno di un sistema come quello cooperativo che a mio avviso deve avere l'ambizione di modificare il mercato. Lo dico ad esempio su un punto qua, quando noi diciamo noi non partecipiamo a gare al massimo ribasso. Noi se rappresentiamo il 9%, noi come cooperazione nostra non partecipiamo a gare al massimo ribasso. Tanto le gare al massimo ribasso le vincono quelli con lo sconto del 50%. Con lo sconto del 50% poi il lavoro non si fa. o si fa con delle modalità che non sono accettabili e di conseguenza bisogna stare lontano. Anzi, bisogna fare su quella roba lì una battaglia politico-sindacale-imprenditoriale denunciando pubblicamente, politicamente, tutti coloro che continuano a partecipare. E dicendoci anche che rinunciare a partecipare non è rinunciare a un'opportunità è rinunciare a una sfortuna, a una sfiga che non va assolutamente intercettata. Questa è la nostra battaglia che dobbiamo mettere nel campo. E poi abbiamo valutato ovviamente indicatori di solidità dei clienti. Di cosa? Sì, l'ho veramente finito. Ci tengo a dire solo due ultimissime cose.